TURN IT UP Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video E siamo tornati su Davy McRae Ok Partiamo Ok Partiamo con il caricamento Continua Inizia missione Partiamo tutti i video Per copyright perché È così Ok Siamo Dentro la chiesa Allora qua Ok non si vede una minchia perché c'ho La finestra aperta Il sole che Entra Ok Eh eh Guardalo qua Ok Qui C'è un cazzo Ok di qui Ok Ok Togliamo tutti i video Non ho sbloccato ancora niente Ok Ok Qua però c'è Una porta Sai che sono nella merda Ah no Pensavo di sì Vabbè Andiamo Ok Ok Di qua Ok Qua c'è il quadro Salta Ok Saltiamo il video Ok 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 Mori, mori, mori Ok, qua Cavaliere Ok Ehi, porca traia Non mi guardo Non mi guardo i tasti Non mi guardo Ah, for sure Ok 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 potere se non mi ricordo i tasti ok mi ha dato il potere ok 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 mi ha dato il potere bella il potere ok muori globulo verde ok ok qui c'era la stanza quindi ti guardo lontano oh cazzo no ma fa colore vero qua dovevo per forza cadere ok ok un'altra anima presa ok 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 what's up ok ok prendiamo un po' di roba che più avanti ci servirà ok coglioni ok barta ok adesso sto sognando proseguiamo ok qua mi dà il potere di attirare le cose ok 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 così si fa posizion mio piccolo ok merda merda che c'è ora questa è la casa tua questa è la casa tua non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo la medicina è un male umano male umano tu non sei umano tu non sei umano Ok Ok ragazzi ci vediamo qua Alla prossima volta Ciao ciao